Molte notizie di oggi riguardano gli sviluppi nella direzione di Kurakove. Negli ultimi giorni c'è stata una serie di attacchi e contrattacchi intorno a Krasnurivka, che è aumentata di intensità e segnalava l'intenzione russa di prioritizzare la cattura della città come step preliminare per l'attacco a Kurakove. Dopo la caduta di Marinka, Krasnurivka è diventata il passo successivo più logico per il suo alto valore tattico. Prendendo la città, i russi potrebbero continuare lungo i campi, compromettendo la linea di rifornimento verso gli insediamenti fortezza ucraini dietro Marinka e potrebbero inoltre proiettare controllo di fuoco sui fianchi ucraini. In questa maniera otterrebbero un significativo vantaggio, potendo inoltre attaccare gli ucraini dai fianchi. Gli attacchi su Krasnurivka stanno durando da settimane e sono condotti su due vettori, da sud verso il distretto residenziale e da est attraverso le fattorie e i campi coltivati. I russi hanno affrontato pesante resistenza su entrambi i vettori, in quanto queste aree sono state fortificate dall'inizio del conflitto del 2014. Quindi gli assalti russi sul distretto sud e da est verso i campi sono falliti nei primi tentativi poiché le forze russe non avevano consolidato le proprie posizioni ed erano state costrette a ritirarsi, tuttavia c'è voluto poco perché si raggruppassero e iniziassero le preparazioni per il prossimo attacco. Questi sforzi includevano ovviamente preparazioni d'artiglieria. Insieme ad altri obiettivi, geolocalizzazioni confermano la distruzione di equipaggiamenti di guerra elettronica ucraini che stavano per essere schierati. Poco dopo i russi hanno lanciato la prima ondata attaccando sia da est che da sud. In quest'ultimo vettore l'assalto meccanizzato era di una notevole stazza, largo quanto due plotoni. Geolocalizzazioni mostrano una prima avanzata con sei corazzati che hanno subito fin da subito pesante fuoco d'artiglieria. Gli ucraini hanno fatto estensivo uso di munizioni a grappolo e l'attacco meccanizzato è stato finalmente respinto con l'aiuto dei droni. Quello che è successo dopo ha attirato l'attenzione internazionale. Il successivo attacco russo era infatti capitanato da un carro completamente ricoperto da piastre protettive. Soprannominato carro Tartaruga è riuscito ad avanzare verso il distretto sud e a tornare alla base senza essere distrutto. Questo ha portato a diversi analisti ucraini ad analizzare la situazione. Hanno fatto notare che non sono stati riportati i droni contro il carro, quindi i sistemi di guerra elettronica a bordo sembrano aver funzionato. Inoltre, la carenza di missili anticarro è notabile dal fatto che non è stata usata altro che artiglieria per cercare di fermarlo. Come la Tartaruga ha attirato l'attenzione di infiniti commenti sui social media, le Forze Russe hanno rilasciato un video dove illustravano il processo di sviluppo delle protezioni mostrando ulteriori dettagli. Sfortunatamente per loro però si sono dimenticati che i video possono essere geolocalizzati. Poco dopo infatti, un attacco a Eymars avrebbe bersagliato la zona distruggendo la base. E' stato poi il turno degli ucraini. Geolocalizzazioni mostrano un loro contraattacco nelle stesse aree in cui si erano verificati gli attacchi russi, indicando che erano riusciti a riprendere le posizioni. Le immagini mostrano artiglieri e droni colpire un edificio nella parte est della città. Qui c'era una delle principali posizioni russe nell'aria e dopo che ha preso fuoco ha poi cominciato a collassare. I russi non hanno accettato questo indietreggiamento e hanno aumentato la scala dei loro sforzi. Prima di tutto hanno riutilizzato il concetto della Tartaruga, migliorandolo in alcuni punti e utilizzandolo nuovamente per guidare gli attacchi. Un ufficiale ucraino ha dichiarato che le forze russe hanno condotto un assalto meccanizzato vicino a Krasno-Rivka usando dozzine di corazzati, compresi i BMP e T-72. Gli ufficiali hanno dichiarato che le truppe Ukraine hanno distrutto solo parte di questi veicoli, suggerendo quindi che alcuni sono riusciti a schierare i propri soldati dentro la città. Poi i russi hanno dato il via alla distruzione. Hanno infatti bombardato estensivamente la zona usando i mortai pesanti Tulip e le Fab 1500. Alcuni analisti hanno fatto notare l'importanza delle bombe plananti nella creazione di sfondamenti per le forze russe. Sono stati inoltre riportati sei elicotteri d'attacco russi. Geolocalizzazione riprendono la folata di razzi contro le posizioni ucraine, che sono tuttavia pesantemente fortificate e in grado di resistere a questo tipo di attacchi. In generale la situazione ucraina rimane complicata e le forze russe si sono consolidate nelle periferie di Krasno-Rivka. Tuttavia, sembra che si hanno impegnati nel processo di concentrare le truppe e non abbiano ancora iniziato l'assalto principale. È iniziata una battaglia urbana e le Fab stanno giocando un ruolo fondamentale nell'aprire la strada all'avanzata russa. Le forze russe stanno cercando di aumentare il ritmo e di sfruttare la piccola finestra temporale prima dell'arrivo degli aiuti occidentali, specie in seguito alla recente approvazione di ulteriori fonti statunitensi dopo mesi di temporeggiamento. Tuttavia, già la zona industriale presenterà un grosso rallentamento dell'avanzata russa. Concludiamo portando l'attenzione sui nostri social alternativi e in particolare sul Patreon. Considerando la volatilità di YouTube e i continui attacchi dei bot, non possiamo più affidarci esclusivamente a questa piattaforma. Se doveste quindi averne la possibilità, considerate l'iscrizione al Patreon dove, come ringraziamento, pubblichiamo una volta a settimana aggiornamenti strategici esclusivi. Grazie per l'ascolto e come al solito vi do appuntamento al prossimo video.